Alcuni autotrasportatori tenevano per mesi nei loro tirri i pass dalla validità di due ore, sette casi accertati, i permessi straordinari per attraversare il viale Boccette e rimbarcarsi alla rada San Francesco non venivano ritirati dagli addetti delle compagnie di navigazione ed i divietti venivano così facilmente aggirati. Il sistema dei permessi da esporre sul parabrezze però al capolinea garantisce il comandante della Polizia Municipale Calogero Ferlisi. Oggi la riunione con il sindaco Renato Accorinti e il dirigente alla viabilità Mario Pizzino per modificare un sistema che di fatto, nonostante la realizzazione del nuovo approdo a sud della città, non ha quasi mai prodotto risultati apprezzabili. E dalle difficoltà si è aggiunta anche la disonestà di chi ha tenuto il pass anche da marzo fino a settembre senza interruzioni. Ed ecco pronte le contromosse del sindaco e del comandante dei vigili che dovrebbero eliminare spazi di manovra e gestioni poco chiare. Le novità che saranno proposte e verosimilmente attuate saranno semplici e determinanti al tempo stesso. Via il sistema dei pass. Rada San Francesco interdetta all'imbarco dei mezzi pesanti da subito. Le deroghe verranno decise di volta in volta e per evitare scappatoi una pattuglia sarà costantemente posizionata sul viale della libertà. Gli autotrasportatori che arriveranno alla Rada San Francesco fuori dal regime di deroga saranno sanzionati sistematicamente. Sarà installato inoltre un sistema di videosorveglianza che permetterà di visionare costantemente il traffico alla chiocciola dell'approdo di tre mestieri. Delle novità domani saranno informati gli autotrasportatori che sono attesi per un incontro a Palazzo Zanca. Dalla categoria le istituzioni locali si attendono collaborazione.